Ciao a tutti ragazzi, sono Yume Shan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torno con un video recensione. Questo video recensione mi è stato chiesto da Connie1210, che saluto, e mi ha chiesto se potevo recensirli Il Castello Erante di Owl. Il Castello Erante di Owl, tra l'altro, è uno dei primi dei film animazione che ho visto quando ero piccola ed è stato proprio questo avvicinarmi a questo genere. Tra l'altro è proprio un film animazione del 2004, diretto da Hayao Mezaki e prodotto proprio sempre dallo studio Ghibli. La cosa che mi colpì fin da subito furono proprio gli edifici e i vestiti che mi ricordano tantissimo l'Europa all'inizio del Novecento. Tra l'altro ho scoperto anche che molti edifici di questo film sono identici a quelli della città alzaziana Colmar, della quale proprio Mezaki aveva preso spunto per la realizzazione di questo film e che ho apprezzato veramente tanto questa cosa perché non me ne ero accorta. Non conoscevo questa città e quindi ho apprezzato veramente tanto questa nuova conoscenza, diciamo. Se ci fate caso all'interno del film ci si vedono tantissime macchine volanti e tutte le automobili sono mosse proprio dalla forza del vapore. Questo fatto, diciamo, mi ha ricordato tantissimo il filone della narrativa steampunk. Lo steampunk è proprio, diciamo, un filone della narrativa fantastica, fantascientifica, dove, diciamo, troviamo una tecnologia anacronistica all'interno di un'ambientazione storica. Vi faccio un esempio, questo filone può essere ritrovato nei romanzi di Conan Doyle e di Wetz. Quindi ritrovarlo qui mi ha sorpreso e colpito allo stesso tempo. Guardando proprio dietro il DVD ho notato che dopo il primo Oscar per La città incantata e Leone d'oro alla carriera a feste alle Venezia 2005, il caporavoro è proprio di Ayo Miyazaki. Ed è stato proprio grazie a questo film che Miyazaki è stato l'unico, diciamo, regista a vincere sia Leone d'oro che all'Oscar. Quindi è stato veramente un film molto importante per la carriera proprio di Ayo Miyazaki. La storia l'ho trovata veramente molto particolare. Il genere, diciamo, fantastico, avventura, sentimentale. Ed è una storia veramente ben fatta, sono diverse sfaccettature e poi viene veramente ben narrato il rapporto tra bene e male. Un altro, diciamo, significato importante in questo film. La storia ci parla di Sophie, che purtroppo è una ragazza che ha poca fiducia in se stessa, che ha reeditato proprio il negozio del padre. Un giorno la ragazza farà un incontro inaspettato e fantastico allo stesso tempo. Incontrerà un giovane ragazzo, Howl, che si vocifera che in realtà rubi i cuori delle panciulle. Dopo questo incontro, Sophie si sentirà molto sorpresa e confusa allo stesso tempo, non capisce molto bene la vera realtà di questo ragazzo ed è rimasta quasi proprio affascinata. Poco dopo riceverà anche la visita di una strega, che avendo visto, diciamo, Howl in presenza proprio di Sophie, si arrabbia e le scale contro un incantesimo, una maledizione, trasformandola proprio in una vecchia signora. Qui, diciamo, si troverà con le spalle al muro sconvolta, non sapendo proprio cosa fare, deciderà di partire proprio alla ricerca di Howl. Lei pensa che in qualche modo lui possa aiutarla a cancellare e eliminare proprio la maledizione. Diciamo che è un piccolo prologo di tutta la storia. Infatti vedremo se Sophie riuscirà a trovare Howl, se riuscirà, diciamo, a cancellare la maledizione. Scoprirà molto di più anche su Howl. All'inizio ci può sembrare un ragazzo molto sicuro di sé, ma all'apparenza, ma cambierà tantissimo carattere, scopriremo molte fragilità che all'inizio magari non ci aspettavamo. Scopriremo molto di più anche sulla strega che ha lanciato proprio l'incantesimo a Sophie, il perché si è comportato così e cosa ci è diretto al suo comportamento. Tra l'altro scopriremo molte fragilità di ogni personaggio, ma la cosa che ho apprezzato veramente tanto è vedere proprio la crescita di ogni personaggio, la crescita veramente importante dall'inizio proprio alla fine del film. E diciamo, lo scopriremo piano piano proprio vedendo questo film. Un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo sono i Sandrak. I Sandrak sono veramente ben fatti e ben realizzati. Se volete potete andarli a sentire e sono sicura che piaceranno tantissimo anche a voi. Fatemi sapere con un commento qua sotto. A me sono piaciuti veramente tantissimo. Anche i disegni che anche qui sono veramente fantastici. Qui è solo per farvi vedere un esempio. Qui diciamo che è la nostra Sophie all'inizio, che ha circa 18 anni mi sembra, e qui è trasformata poi in una vecchia signora. Diciamo che è una vecchia signora morta arzilla e molto forte rispetto, diciamo, alla sua età. Quindi ci saranno diverse anche scene molto comiche all'interno, soprattutto Taule e Sophie. Quindi è un film che vi straconsiglio veramente tanto. Io l'ho apprezzato particolarmente, sia per i tremi che Tatta, ma anche, diciamo, per le scene ironiche, come vi dicevo, all'interno. Bene, detto questo, spero che questo breve video vi sia piaciuto. Fatemi sapere con un commento qua sotto se qualcuno di voi ha mai visto il castello degenerante di Aul, se vi è piaciuto, oppure no, e il perché. E fatemi sapere anche se avete mai letto il libro, che io non sono ancora riuscita a leggere, ma che sono molto curiosa. Fatemi sapere sempre se l'ho consigliato oppure no. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!